Meno burocrazia, tempi certi per l'avvio dell'attività di imprese e quindi maggiore attrattività di nuove iniziative imprenditoriali. Sono le direttrici su cui si muove la legge regionale impresa competitività e sviluppo, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale con l'astenzione del Movimento 5 Stelle, su proposta dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Mauro Di Dalmazio. Dopo un lungo lavoro bipartisan in commissione, la legge vede la luce, riproponendo le migliori pratiche delle altre regioni in questo settore. basterà esperire la nuova CUR, la comunicazione unica regionale all'unico SUAP regionale tutto in via telematica e si potrà iniziare l'attività di impresa. Entro 60 giorni il procedimento sarà concluso con risposta positiva o negativa da parte degli enti. Una semplificazione che va nella direzione di meno burocrazia e quindi meno occasioni di possibile corruzione. Chiaro che la semplificazione e la riduzione dei passaggi impedisce e riduce tutti quei centri di interdizione dove possono annidarsi fenomeni distorsivi dell'attività della pubblica amministrazione e fenomeni corruttivi. Quindi in questo senso da sempre e ovunque la semplificazione è anche un modo di contrasto, di riduzione delle opportunità distorsive e corruttive. La legge prevede anche un meccanismo di compensazione tra crediti e debiti con l'ente regione al fine di liberare risorse da investire nell'impresa e migliorare l'accessibilità al credito. Noi abbiamo creato un circuito di compensazione tra debiti e crediti perché l'amministrazione non può solo chiedere doveri ad un imprenditore ma gli deve anche garantire i suoi diritti e dopo gli deve garantire un tempo certo per avere una risposta, gli deve garantire un solo centro di analisi di questa domanda di impresa e qualora i tempi vadano oltre il legittimo e ci si rimpalli le responsabilità allora a quel punto quell'imprenditore ha il diritto di iniziare la propria attività sapendo che deve rispettare le regole nazionali, regionali e comunali e che sarà soggetto a controllo e postumi entro i 60 giorni successivi.